Simone Siciliano, ieri sera in Piazza Umberto I, fiaccolata pacifica da parte delle mogli degli operai che hanno perduto il posto di lavoro, ci riferiamo agli operai dell'indotto, chiedono fatti concreti all'amministrazione comunale, non alla solità, solidarietà. Come risponde l'amministrazione comunale? Rispondiamo con delle azioni concrete, così come i fatti concreti che chiedono le donne, ma come tutta la città gelese, a gran voce. Il 2017 sarà un anno in cui diversi cantieri verranno avviati in città grazie ai fondi del Patto per il Sud. Ricordo che ci sono 30 progetti che sono stati avviati alla regione per portarli in gara. Ci sono poi i cantieri che riguardano le royalties, sono altri progetti di urbanizzazione della città, quindi tutto il settore che riguarda la riqualificazione cittadina, soprattutto di aree periferiche, come ad esempio la parte nord del museo, piuttosto che alla fine di via Reganati, verranno interessati da cantieri reali. Dall'altro ci sono i fondi dell'agenda urbana, siamo stati selezionati assieme a Comune di Vittoria per un totale di 40 milioni di euro per progetti che hanno ricaduto a carattere prevalentemente sociale, quindi per il combarto anziano, per le categorie più svantaggiate, per un miglioramento della pubblica amministrazione, quindi dei servizi che la pubblica amministrazione può dare alla città e per tutto quello che riguarda il ripristino di aree con gravi problemi sismici. Dall'altro ci sono delle iniziative più incisive che riguardano il popolo direttamente. Uno di questi è stato avviato a fine gennaio, è un bando per le start-up, chiamato Job Start-up, che sta riscuotendo un notevole successo, molti ragazzi, molti giovani talenti si sono avvicinati all'amministrazione, giovani talenti che rappresentano il tessuto, la futura classe ambientatoriale, che riceveranno un incendio per le idee che porteranno da qui a maggio, idee che potranno diventare nuove attività ambientatoriali. La sostanza lei dice che il 2017, l'anno che è appena cominciato, sarà importante proprio a livello occupazionale, partiranno realmente i cantieri? È un anno di raccolta dei risultati coltivati nel 2016, si vedranno avviare finalmente il cantiere della Green Refinery, che è quello che dovrebbe tamponare la maggior parte della crisi dovuta alle difficoltà dell'indotto storico, e a questo si concateneranno tutta una serie di iniziative, come vi ho già elencato, di riqualificazione urbana e di aiuti diretti per i comparti più in difficoltà, quale ad esempio il settore agricolo, soprattutto per quello che riguarda anche lì la giovane venditoria, la sperimentazione di nuove culture, soprattutto con carattere industriale. Però finora, Simone Siciliano, abbiamo ascoltato fiumi di parole, fatti concreti al momento attuale però non ce ne sono. Questi sono fatti concreti, perché Job Startup è un fatto concreto, sono dei fondi pubblici dell'amministrazione che sta investendo sulla giovane venditoria. A fine mese partirà un altro bando che dovrebbe aiutare il comparto edile incentivando i cantieri dell'edilizia privata.